Un momento di apertura alla città, siamo veramente orgogliosi di ospitare per strada un evento importante dove tutti avranno la possibilità di provare questo sport bellissimo. È il primo villaggio estivo del tennis aperto a tutti. Lo Smash Village sul lungomare Caracciolo ospiterà il 10 ed 11 giugno gli appassionati e le scuole. Una iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis della Campania ed organizzata dagli assessorati allo sport del comune e della prima municipalità e dalla presidente della commissione sport dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, Marilena Nasti. La madrina dell'evento sarà Rita Grande. È la testimonial anche del nostro trofeo, del nostro circuito Kinder, che è il circuito più importante a livello nazionale giovanile. Quindi per noi sarà un piacere avere Rita Grande sui campi a contatto con i ragazzini. Abbiamo più di 30 sodalizi, tra i più importanti della regione, presenti con tutti i ragazzini fino agli 11-12 anni. Avremo delle manifestazioni anche per quanto riguarda il tennis in carrozzina, avremo il beach tennis, avremo i campetti di badminton. Quindi veramente il tennis a 360 gradi. Ricorderemo sicuramente tutti quanti perché sarà veramente una splendida iniziativa di sport, di ragazzi e di divertimento. Ho tutta la possibilità di offrire e di aprire le porte ai tanti appassionati di tennis e mettere in piazza uno degli sport più belli. Io ritengo sempre che il tennis debba uscire dai circoli, debba essere più presente per strada e questa è un'occasione importante per poterlo fare. Più riusciamo a far sì che ci sia la pratica del tennis, più avremo campioni, ma più avremo gente che pratica questo sport che è fantastico.